Ciao a tutti, questa volta andremo a vedere l'AOC U3477PQ durante il gameplay. È un 34 pollici, 3440 pixel per 1440, quindi con un aspect ratio 21.9. Alla prossima. 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 Adesso. Ragazzi. Questo video è tutto. In descrizione. Troverete il link. Alla recensione completa. Sul sito. extremehardware.com un saluto da Andrea